Una donna conosciuta con il soprannome di la serial killer dal cuore solitario giapponese incontrava degli uomini su internet, li avvelenava, rubava i loro soldi e poi li uccideva Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime Anche oggi parleremo di un nuovo caso di cronaca nera giapponese In particolare vi racconterò la storia di Kanae Kijima, la serial killer dal cuore solitario giapponese è stata condannata per aver avvelenato ben tre aspiranti mariti e c'è il sospetto che ne abbia fatti fuori anche altri quattro tra il 2007 e il 2009 Il 6 agosto del 2009 il 41enne Yoshiyuki Oide è stato trovato morto all'interno della sua vettura in un parcheggio di Fujimi nella prefettura di Saitama La causa della sua morte era avvelenamento da monossido di carbonio Tuttavia l'idea che questo uomo si fosse suicidato mostrava una serie di incongruenze Per questo motivo un'indagine è stata aperta da parte della polizia di Saitama A seguito di queste indagini sono arrivati a bussare alla porta di una donna disoccupata di 34 anni Questa donna altre non era che Kanae Kijima La donna era appunto la fidanzata di questo oide Sembra inoltre che questa donna avesse già un passato con altri amanti che purtroppo sono deceduti in circostanze alquanto misteriose Questa donna tra l'altro ha anche mentito dicendo di essere la moglie di Yoshiyuki alla compagnia assicurativa La polizia l'ha quindi arrestata per aver commesso frode il 25 settembre dello stesso anno La donna era riuscita a ottenere 4.700.000 yen dopo aver finto di essere appunto la moglie di Yoshiyuki Nel 2010 la donna era stata nuovamente arrestata dopo il rilevamento di altre 7 accuse di frode nel mentre la polizia ha continuato a indagare contemporaneamente su tutta questa lunga lista di omicidi che tutti le ricollegavano a questa donna Il 22 di febbraio è stata accusata di aver fatto fuori Takao Terada un uomo di 53 anni come è stato rilasciato in un report da parte del dipartimento di polizia di Tokyo All'epoca la causa della sua morte era stata attribuita a suicidio e non era stata effettuata un'autopsia su questo uomo appunto di 53 anni che faceva il salarima L'accusa di omicidio sembrava molto insolita nonostante appunto la mancanza di prove per la causa della morte appunto di Takao Inoltre era riemerso anche un altro uomo di 70 anni tale Sadao Fukayama il cui corpo era stato trovato nudo all'interno di un bagno nella sua casa di Matsudo Ancora una volta la causa della sua morte non era stata determinata e l'ammonte dei suoi soldi era pari a 74 milioni di yen una cosa come 600 mila euro Tornando adesso all'uomo di cui vi avevo parlato prima che c'era questa mancanza di prove il motivo per cui è stata condannata anche per questo caso era questo collegamento che c'era appunto tra la strana morte di Sadao Fukayama e questo Takao Terada perché in entrambe i casi la causa di morte era stata piuttosto insolita e misteriosa però c'era un tassello comune che quando Takao Terada al 53enne era venuto a mancare subito prima della morte un totale di 17 milioni di yen sono stati trasferiti e depositati sul conto bancario di Kijima inoltre il 15 di dicembre c'è stato un'altra persona che è caduto probabilmente vittima di questa donna tale Kenzo Ando un 88enne di Noda che è morto in un incendio a casa sua tuttavia da ulteriori indagini si è scoperto che la causa della morte non era stata per via di questo incendio ma ancora una volta le prove suggerivano che c'era la presenza del monossido di carbonio e che quindi era stato avvelenato il padre di questo Ando era un famosissimo pittore e sembra che Kijima abbia rubato tutti i dipinti dalla casa di Kenzo per poi cercare di rivenderli ad alto prezzo immediatamente dopo la sua morte e inoltre ha anche prelevato una cifra pari a quasi 2 milioni di yen dal suo conto bancario e inoltre poi c'era questa sua ultima vittima quella di cui si è iniziato ad aprire questa indagine appunto Yoshiyuki Oide 41enne che come vi dicevo era stato ritrovato questo uomo di Chioda in una macchina che era stata affittata in un parcheggio di Fujimi la causa della morte ancora una volta era stata attribuita all'avvelenamento per monossido di carbonio e ancora una volta c'era un tassello comune il fatto che Kijima avesse ricevuto ancora una volta dei soldi sul proprio account appunto quei 4.7 milioni di yen di cui vi parlavo all'inizio perché lei appunto ha finto di essere la moglie di Yoshiyuki e quindi era riuscita ad ottenere questi soldi da parte delle compagnie assicurative oltre a questi ci sono stati una serie di altre tre morti che possono essere stati attribuiti a questa donna uno era avvenuto nel maggio del 2004 quando un giornalista che è rimasto anonimo è stato trovato morto dopo essere stato travolto da un treno un altro sempre nella regione del Kanto nell'aprile del 2009 tale Kazumi Yaiba il cui corpo è stato ritrovato sulla spiaggia e la sua morte è stata attribuita o almeno così si pensava a un incidente avvenuto mentre stava pescando inoltre nell'ottobre del 2009 c'è stato anche la morte misteriosa di Hideyuki Maruyama 53enne che è stato ritrovato nei pressi di Chiba ci sono stati inoltre una serie di altri crimini che fortunatamente questi uomini sono sopravvissuti ma tutti hanno dato una certa somma di denaro a questa donna questa donna era riuscita anche a farsi dare dei soldi da alcune altre vittime come un quarantenne che le ha donato 1.3 milioni di yen poi c'è stato un uomo sulla cinquantina di Nagano che le ha versato una cifra pari a 1.9 milioni di yen poi c'è stato un altro uomo di Shizuoka sempre sui 40 anni che il 10 di gennaio del 2009 ha dormito con questa donna in questo hotel e Kijima poi se n'è andata la mattina presto rubandogli dal suo portafoglio 50.000 yen c'è stato anche un uomo sulla cinquantina nel 2009 del quale Kanae ha tentato di rubarli a un altro centinaio di yen ma ce ne sono veramente tantissimi di casi c'è anche un 41enne di Tokyo che anche lui ha avuto a che fare con questa Kijima e è riuscita a rubargli una cosa come 40 milioni di yen e infine anche un uomo di Nagano sulla cinquantina dal quale la donna ha cercato di rubargli 1.4 milioni di yen e un trentenne di Saitama che appunto la donna ha cercato di rubargli ancora una volta veramente una cifra molto alta pari a quasi 200 milioni di yen ma chi era questa Kijima? Kijima è nata e cresciuta a Nakashibetsu in Hokkaido dove si è diplomata alla scuola superiore di Bezukai successivamente ha iniziato a frequentare la facoltà di economia nell'università di Toyo University tuttavia non ha concluso gli studi dal momento che aveva altri interessi per la sua carriera Kijima era infatti un'abile bugiarda e diceva di vivere in un condominio lussuoso di Nishi Ikebukuro pagando 200 mila yen al mese che sono tipo 1800 euro e diceva anche di guidare una Mercedes-Benz che in realtà era a nolleggio usava anche lo pseudonimo di Sakura Yoshikawa affermando che il suo padre era un insegnante dell'università di Tokyo inoltre lei diceva di essere un'insegnante di pianoforte Kijima era solita tenere dei diari dove scriveva i suoi pensieri e le sue memorie che sono stati poi anche pubblicati in un libro chiamato Josei Jishin un romanzo che è stato pubblicato da Kadagawa Future Publication nel febbraio del 2015 con il titolo Prize Kanae possedeva anche un blog che ha iniziato il 5 gennaio del 2014 i suoi fan hanno pubblicato gli iscritti di Kijima su un blog appositamente creato per lei parliamo adesso del processo il primo processo si è tenuto presso la corte distrettuale di Saitama e la criminale era stata accusata per tre omicidi e sei capi d'accusa per tentata frode frode e anche furto le procedure giudiziarie sono iniziate il 5 gennaio del 2012 il primo processo è avvenuto il 10 gennaio e il giorno del giudizio il 13 aprile sempre dello stesso anno parlando adesso dei tre casi di omicidio l'accusa ha fornito le seguenti prove primo tra tutti vi era la somiglianza tra i vari omicidi infatti in tutti e tre i casi erano state utilizzate delle sostanze comuni che tra l'altro erano state acquistate dalla stessa Kijima in precedenza e sono stati trovati sia sulla scena sia nell'appartamento di questa donna e inoltre l'ultima persona che ognuna di queste vittime aveva visto era proprio la signora Kanae nello specifico per quanto riguarda il caso di Takao Terada sia il computer che le chiavi sono state prelevate dal suo appartamento è improbabile che Takao Terada abbia quindi acquistato 25 grammi di questa sostanza appunto per intossicarsi inoltre non aveva un'auto o una bicicletta e non c'era traccia che avesse nolleggiato una macchina vi ricordo che questo uomo era stato ritrovato in quel parcheggio all'interno di una macchina affittata quindi chi mai avrebbe affittato questa macchina e come mai lui si trovava all'interno perché appunto non c'era traccia di un suo probabile acquisto su internet spostandoci adesso sul caso di Kenzo Ando lui non aveva mai preso dei sonniferi prima e quel giorno che era stato trovato morto era stato trovato appunto privo di vita perché aveva preso una quantità pari a 10 volte la quantità di sonniferi normali che sarebbero stati prescritti a una persona magari che aveva problemi ad addormentarsi quindi capite è veramente strano che una persona che mai aveva fatto uso di queste sostanze si sia ritrovato a prenderne 10 volte di più della dose consigliata perché di solito c'è una specie di escalation comunque per quanto riguarda l'autopsia giudiziaria non c'era quasi nessuna polvere di carbonio nella gola cosa che solitamente si presuppone quando uno si abbelena con il monossido di carbonio per quanto riguarda invece il caso di Yoshiyuki Oide non c'era nessuna chiave di auto a noleggio nella macchina sul luogo del dilitto ed è veramente strano che questo uomo avesse scelto di buttarla via prima di suicidarsi Oide non aveva residui dello Yotan sulle mani e non sono stati trovati nemmeno i guanti l'accusa ha detto in una dichiarazione il cielo notturno si estende fuori dalla finestra quando la notte si apre diventa coperto di neve anche se non si vede quando la neve è caduta si può scoprire che è caduta nel mezzo della notte sostanzialmente con questa metafora quello che si voleva dire era che l'enfasi sull'accumulo di prove circostanziali era più che sufficiente per dimostrare la colpevolezza di Kijima capite che c'erano troppi punti che non combaciavano e all'interno di ognuno di questi casi vi erano delle morti comunque in circostanze particolari e tutte queste persone avevano mandato dei soldi proprio poco prima, le ore prima di morire proprio a questa Kijima dall'altra parte inoltre Kanae e il suo team di difesa ha sostenuto che tutte queste prove sono state consegnate volontariamente dall'altra parte però il team appunto che si era occupato di difendere Kanae ha detto che tutte queste ingente somme di denaro erano state donate a Kanae volontariamente e che lei non le avesse in nessun modo manipolati e che tutte queste morti erano accidentali o queste persone si erano suicidati il che secondo la difesa giustificherebbe la dovuta assoluzione di questo caso dal momento che Kanae, ha detto a loro, non aveva alcuna colpa io ragazzi non so cosa ne pensate voi ma scrivetemelo qui sotto nei commenti a me sembra che queste prove siano abbastanza diciamo inattaccabili in ogni caso il tribunale distrittuale di Saitama riconosce le accuse e appunto la condanna per impiccagione di Kanae Kijima fu la prima imputata donna a ricevere una simile sentenza in un processo con un giudice laico e la donna ha fatto appello proprio lo stesso giorno l'appello è avvenuto all'alta corte di Tokyo alla quale ha conformato la condanna a morte e il 12 marzo del 2014 ha respinto un ulteriore appello di Kijima lo stesso giorno ha deciso ancora una volta di appellarsi questa volta alla corte suprema Kijima si è spostata di prigione dopo la decisione della corte d'appello e ha cambiato il suo cognome nel 2016 la corte suprema presieduta dal giudice Yoshinobu Onuki decise di tenere la prima sessione di apertura appunto il 10 febbraio del 2017 in tale data il tribunale della difesa ha sostenuto che gli uomini potrebbero essersi suicidati questo non era sopportato da alcun fatto e il pubblico ministero smontò appunto questa ipotesi contribuendo quindi al rigetto del ricorso sostanzialmente per il pubblico ministero non c'era dubbi era stato proprio questa donna a commettere questi efferati omicidi il 14 aprile del 2017 il giudice della corte suprema appunto Yoshinobu Onuki disse le decisioni sono state intenzionali ed estremamente dolorose l'imputata ha espresso delle teorie che sembrano alquanto irrazionali e non ha mostrato alcun rimorso pertanto la pena di morte è inevitabile e con questo la sua condanna a morte è stata confermata il 9 maggio la corte suprema ha rispinto le accuse di pregiudizio contro Kijima che è stata appunto la quindicesima donna a essere stata condannata alla pena di morte nel dopoguerra e la prima ad essere condannata come vi dicevo da un giudice laico dal 2019 Kijima si trova nel braccio della morte della Tokyo Detention House bene ragazzi questo era il caso di oggi io spero che anche questo caso era un po' più corto perché non c'era moltissimo da dire perché alla fine tutto quello che era stato ritrovato era molto circostanziale e anche sul passato di questa donna non si è trovato moltissimo devo dire che è rimasto un personaggio piuttosto misterioso e anche i media non ne hanno trattato molto anche perché negli stessi anni stava proprio avvenendo un caso ben più noto di cui ho trattato e quindi i media si sono focalizzati più su quel caso rispetto a questo però è veramente un caso che a me fa davvero da brividire io non riesco a capire le motivazioni dietro a tutte queste uccisioni è vero che sono tutte circostanziali però sembra abbastanza palese che sia stata lei proprio l'artefice di questi piani per via di questi trasferimenti di soldi non lo so poteva farsi pagare in contanti sarebbe stato meglio in ogni caso non lo so mi dispiace davvero per le vittime per le famiglie di queste vittime che magari pensavano di aver trovato una moglie o una finanzata invece si sono ritrovati con un'assassina in casa io ragazzi vi ringrazio per essere stati con me e spero di rivedervi nel prossimo video scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate e lasciate anche un mi piace alla prossima ciao